Inaugurata questa mattina la seconda edizione di Napoli Città Libro, salone del libro e dell'editoria in programma a Castel Sant'Elmo fino a domenica 7 aprile. Con 115 espositori e 120 appuntamenti culturali, la fiera ospita un programma di iniziative sui temi della contemporaneità, della cultura napoletana e un focus di grande attualità sull'inganno e sulle fake news dal simbolico titolo di Sirene. È un'occasione importante di visibilità, di incontro e anche di confronto fra editori per scambiarci strategie e sentire il polso del mercato. È un'occasione anche per capire se quel che facciamo possa avere attenzione e possa meritare questa attenzione. Per i visitatori della rassegna il Comune di Napoli ha predisposto un servizio gratuito di navette tra l'uscita della metro Van Vitelli e del Castello, con una fermata alla funicolare di via Morgan. Sulle navette sarà illustrata l'attività della biblioteca Analisa Durante di Forcella. In questo modo, sottolinea l'assessore alla cultura Nino Daniele, si crea un collegamento ideale fra queste due parti della città. Napoli è sempre di più capitale della cultura, se non altro perché negli ultimi anni siamo quelli che più cresciamo per offerta culturale e per turismo e Napoli sarà sempre di più anche città di pace perché ha scelto la cultura e nelle prossime settimane le iniziative che vanno in questa direzione sono tantissime. Quindi anche qui a Castel Sant'Elmo, Napoli città al libro, Napoli viene sempre di più scelta per il luogo in cui costruire ponti di umanità.